Continua l'ondata di furti ad Agropoli. Negli ultimi giorni almeno due abitazioni sono state prese di mira dai ladri. In particolare si tratta di un appartamento in località Moio Alto, dove però i malviventi sono riusciti a portare via ben poco. Un altro colpo invece è stato messo a segno l'altra sera in via Mozart, arteria parallela a via San Marco. I ladri si sono introdotti in una villa attraverso il balcone che si trova dalla parte opposta alla strada carrabile. Approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno fatto razzia di tutto quanto hanno trovato al suo interno. In particolare monili d'oro e circa 15.000 euro in contanti. Hanno anche forzato la cassaforte presente nell'abitazione. I titolari dell'immobile, una volta constatato il furto, hanno subito contattato i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno operato i rilievi del caso. La strada in questione è dotata di telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state messe a disposizione delle forze dell'ordine. La gente chiede maggiore sicurezza e l'attivazione delle 30 telecamere di videosorveglianza comunali che, sebbene predisposte, non risultano attive.